Sono state spese tante parole per quanto riguarda la figura del maestro secondo Casadei e adesso noi vogliamo spendere tante note, tanta musica che fa parte del vecchio repertorio dell'orchestra Casadei Cominciamo con, anche se abbiamo avuto tantissime richieste per tanti brani che fanno parte del repertorio dell'orchestra Casadei Cominciamo con uno dei più famosi, un brano strumentale scritto dal maestro secondo Casadei nel 1929 Chiamiamo in causa i nostri solisti, stasera è la loro serata Il primo brano che vi dedichiamo porta per titolo Tramonto Vai, mucho e vai Il primo brano che vi dedico a tutti i nostri solisti, stasera è la loro serata Il primo brano che vi dedico a tutti i nostri solisti, stasera è la loro serata Vai, vai Il primo brano che vi dedico a tutti i nostri solisti, stasera è la loro sorgen L' stampsato Il primo brano che vi dedico a tutti i nostri solisti, stasera è la loro serata Francia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti